Benvenuti a questa presentazione di Alessandro Buongiorno che chiamiamo subito dentro. Viene Alessandro insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. Prego, mettetevi qui dietro. Abbiamo una bellissima maglia, magari la facciamo vedere. Grazie, direttore si accomoda giù. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Ciao Alessandro, un anno fa eri stato vicino all'Atalanta, poi anche per questo tuo legame col Toro decidi di rimanere in Granata. Cosa è cambiato quest'anno e cosa ti ha spinto ad accettare la sfida a Napoli? Buongiorno a tutti, ovviamente quest'anno ci sono state squadre che mi hanno voluto come l'anno scorso. Per quanto riguardava il mio percorso, io ovviamente sono sempre legato al Torino, però era il momento per me di compiere questo step per la mia crescita professionale. Devo dire che in primis sicuramente da quando sono uscite le prime voci non si è fatto mancare l'affetto che ho sentito da parte di tutti i tifosi, poi anche con il mister, con il direttore abbiamo avuto modo durante quest'estate, durante gli europei di parlare, di sentirci e quindi tutto questo mi ha spinto a venire qua. Ciao Alessandro, raccontavi proprio delle chiacchierate con il mister, quest'estate è stato curioso, tu hai avuto un giorno di pausa tra gli allenamenti a Coverciano e l'inizio dell'Europeo, siete andati in un ristorante e vi siete incontrati, dicono casualmente, in quell'occasione che ti ha detto, se veramente ci puoi dire, se è stato un incontro casuale, cosa ti ha detto il mister? Sì, no è stato casuale veramente perché io avevamo il giorno libero appunto dalla nazionale ed era il giorno del mio compleanno, quindi ero con degli amici in questo ristorante di Torino e ci siamo incontrati per caso, abbiamo un po' parlato, mi ha spiegato le sue idee, quello che avrebbe voluto fare qui e poi dopo quell'incontro ci siamo sentiti anche un paio di volte quando poi ero in Germania e come ho detto fin dall'inizio, le chiacchierate con lui, i discorsi con lui mi hanno gasato molto, mi hanno fatto sentire importante, mi hanno dato fiducia, quindi non vedo l'ora di ripagare questa fiducia che lui ha posto in me sul campo. Ecco, si è benvenuto. Allora, innanzitutto hai lasciato una lettera ai tifosi del Torino in cui hai detto che hai realizzato i tuoi sogni, no? Se dovessi descrivere i tuoi sogni in azzurro e poi ti chiedo come ti immagini nel sistema di gioco di Antonio Conte e di questo Napoli. Grazie. Sì, beh, ovviamente quello di poter migliorare ancora, di poter crescere tanto, di poter vincere tanto con questa maglia sarebbero sicuramente sono, sono dei sogni che mi sono prefissato. Per quanto riguarda posizione e il modo di giocare, ho giocato un po' in tutte le posizioni in questi anni. Nell'ultimo anno ho giocato maggiormente centrale nella difesa 3, però l'anno prima avevo giocato anche braccetto a sinistra, posso giocare nella difesa 4 da difensore centrale Mancino, quindi non ho problemi. Nell'ultima stagione ovviamente, dove forse è stata la stagione in cui ho fatto meglio, ho fatto giocando centrale, quindi forse è quello ruolo che in questo momento rispecchia di più quelle che sono le mie caratteristiche, però anche negli altri ruoli non ho problemi a giocare. Alessandro, buongiorno, benvenuto. Arrivi qui come il capitano del Torino, cresciuto lì con una leadership evidentemente spiccata, una riconoscibilità importante per tutto l'ambiente Granata. Arrivi qui in un nuovo spogliatoio con dinamiche differenti, dopo una stagione qui molto delicata, molto complicata, dove per rilanciarsi c'è bisogno di far bene da un punto di vista tecnico, ma anche poi ritrovare quella compattezza, quello spirito. Tu da capitano sai di cosa si tratta. Ecco, come è stato l'approccio in questo gruppo, che sensazioni hai? Come riuscire ad interpretare bene anche questo momento da un punto di vista emotivo? Che contributo porti da capitano aggiunto anche tu? Innanzitutto devo dire che le sensazioni di questi primi giorni sono state assolutamente positive, nel senso che c'è un'atmosfera all'interno del gruppo di chi vuole risollevarsi, di chi vuole riscattarsi dalla scorsa stagione che è stata sotto le aspettative e quindi c'è questa voglia veramente di far bene da parte di tutti, di impegnarsi al massimo, di dare il massimo e di cercare di vincere tutte le partite. Per quanto mi riguarda, io cerco sempre di dare una mano ai compagni, di essere positivo sia dentro che fuori dal campo. A Torino appunto, non ero proprio capitano, però cercavo appunto di dimostrare queste cose, essendo appunto io di Torino, però tutto parte secondo me dagli atteggiamenti e dai comportamenti che uno ha, ripeto, fuori e dentro il campo. Dopo di quello escono fuori le qualità che ognuno di noi ha e che deve mostrare in campo, però sicuramente questo spirito, questa leadership deve venire fuori ma deve spiccare in ognuno di noi, perché ognuno di noi deve sentirsi responsabile, deve voler aiutare gli altri, deve sacrificarsi per gli altri, quindi credo sia una cosa importante. Alessandro, benvenuto. Parlavi di vincere tutte le partite, insomma il leitmotiv che vogliono sentire i tifosi, parlavi di vincere l'obiettivo di vincere tutte le partite, qual è il traguardo che vi siete posti se avete una sorta di punto di riferimento per l'anno prossimo, poi dal punto di vista personale, se c'è un giocatore a cui ti sei ispirato da quando eri piccolo e ultima considerazione... No, tre domande no ragazzi, bisognerebbe farne una, facciamone due però tre no. Allora, facciamo le prime due, le vogliamo ripetere, io non le ricordo già più, forse è l'età che avanza. Ok, poi così per l'altra me la ricordo. Ma no, per quanto riguarda traguardi, così a me non piace fare proclami, parlare troppo di queste cose, anche perché ne ha già parlato il mister comunque. Quello che mi prefigo io come obiettivo è che dobbiamo avere tutti bene in testa, secondo me è quello di cercare di dare tutto ogni partita, di fare bene, di migliorarci giorno per giorno, lavorando, perché lavoriamo tanto, ci impegniamo tanto durante gli allenamenti. E come secondo obiettivo, secondo me, deve esserci quello di non deludere i tifosi, ma non nel senso di non sbagliare mai, perché sarebbe impossibile non farlo. Però io vorrei che i tifosi fossero consapevoli del fatto che noi stiamo dando tutto quando entriamo in campo, quando siamo fuori dal campo, voglio che i tifosi siano consapevoli del fatto che noi stiamo veramente sudando per questa maglia. Quindi se dobbiamo parlare di obiettivi, io nella mia testa, ma penso anche tutti i compagni, ci prefiggiamo questi. Allora, da piccolo guardavo tanti video di Maldini e Nesta, tantissimi. Andavo su YouTube, quando potevo mi mettevo lì, guardavo i video, quindi cercavo un po' di replicare quello che facevano. Un po' più recenti mi sono ispirato anche un po' a Sergio Ramos, perché per quanto riguarda proprio la sua leadership in campo, questa sua, adesso c'è un po' il termine, questa sua aura che ha dentro e fuori dal campo mi ha, come dire, mi ha sempre spinto ad osservarlo e a cercare di imitarne i comportamenti. Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Hai vissuto gli europei, però non sei riuscito a trovare spazio nelle partite che avete disputato. Prima hai detto che hai scelto Napoli rispetto ad altre squadre. Tra i motivi c'è anche la centralità che ti può dare Conte, che può servirti per trovare più spazio in nazionale? Beh, no, io come dicevo prima, tra i motivi c'è stato sicuramente il fatto che che io ho sentito veramente l'affetto da parte di tutti fin dall'inizio. Ho sentito il mister carico, motivato, con voglia di vincere tutte le partite, con il direttore anche ci siamo confrontati, il presidente che ha fatto un investimento importante per me. Quindi sono state queste le considerazioni che ho fatto. Come ho detto, io penso a migliorarmi, a cercare di poter aiutare la squadra nel migliore dei modi per poter vincere col Napoli. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera. Ti sei sempre sentito un torinista doc, cresciuto a Torino, la tua squadra del cuore. Hai sempre rifiutato offerte importanti. Cosa ti ha spinto ad accettare Napoli e soprattutto perché hai detto no alla Juve? Beh, per quanto riguarda l'accettare Napoli appunto l'ho spiegato. Poi ovvio ci sono state tante squadre, come dicevo prima, che mi hanno cercato e in questo momento per me, ragazzo, cresciuto, nato nel Torino, ho giocato sempre nel Torino, ho letto i nomi a Superga. Mi sembrava in questo momento della carriera di tradire anche un po' in primis me stesso. Quindi questo è anche stato una delle motivazioni. E poi, come anche dicevo prima e lo ribadisco, qui veramente l'affetto della gente si fa sentire. Io sono stato due o tre giorni a Napoli prima di venire qui in ritiro e si poteva toccare con mano veramente la passione che la gente ha per il Napoli, per il calcio, si possono veramente percepire. Quindi sono stato contento e sono contento della scelta che ho fatto. Sì, salve. La cosa che volevo chiederti, ieri in campo hai già dimostrato la tua personalità. Se ci sono margini di miglioramento, quali possono essere e come intendi affrontarli? Grazie. Margini di miglioramento ci sono sempre. Sarebbe da stupidi dire che uno non può, ha finito di migliorare. Stiamo adesso cercando di capire insieme al mister tutti, sto cercando di capire insieme al mister tutti i concetti che lui vuole che vengano utilizzati in campo, tutte le posizioni, i movimenti che lui vuole sia nella fase di possesso sia nella fase di non possesso. Per farlo vediamo tanti video, cerco di confrontarmi con lui, con i collaboratori e quindi adesso ci deve essere un periodo in cui si apprende veramente quello che il mister chiede. Qualche concetto già ce lo avevo a Torino, già lo facevo a Torino, qualche altro è nuovo ma insomma con volontà, con voglia di fare secondo me si riesce ad apprendere in fretta veramente. Poi il mister è molto chiaro nelle sue richieste, molto chiaro in quello che vuole che noi facciamo. Quindi assolutamente c'è da migliorare, c'è da crescere ma siamo sulla strada giusta. Buon pomeriggio e benvenuto. A proposito di obiettivi e qualità da migliorare, Conte ha sempre avuto dei centrali difensivi che segnavano, avevano un buon score offensivo. ritieni che questo sia un aspetto che tu puoi effettivamente migliorare e se già ti è stato chiesto di lavorare in tal senso. Grazie. Beh certo, avere difensori che fanno gol penso sia una cosa importantissima. L'anno scorso sono arrivato a quota da tre, spero ovviamente di migliorare questo mio score, però cercare di rendersi pericolosi magari sui calci piazzati, sulle palle inattive diventa fondamentale se poi si vogliono vincere quelle partite, soprattutto se sono partite in cui magari non riesci a creare così tante occasioni per fare gol. Quindi è sicuramente un aspetto importantissimo, lavoreremo su quello, ma come ho detto prima stiamo lavorando su tanti concetti, su tante cose e il mister è bravo nel senso che è molto chiaro in tutto quello che chiede, quindi non c'è confusione, ma solo voglia di assimilare questi concetti il più velocemente possibile. Ciao Alessandro, tre anni con Juric, ti abbiamo visto, sei forte nei duelli, sei forte fisicamente, ma ti chiedo, sei allo stesso livello in fase di costruzione, di impostazione o credi di dover migliorare su questo aspetto? No, beh, ovviamente in questi tre anni ho dimostrato, come dicevi, propensione alla fase difensiva, però ovviamente soprattutto nell'ultimo anno con il mister Juric abbiamo lavorato anche per la fase di possesso molto, quindi tutti i movimenti che da centrale o da braccetto devo fare, il girare la testa, il cercare di vedere il compagno prima per poterlo servire, quindi credo di essere migliorato in questi anni anche tanto in questo. Ovviamente con il mister ci sarà modo di lavorare su questo aspetto, ma lavorare anche sulla fase difensiva perché, come dicevo prima, non si smette mai di migliorare, di imparare cose e di crescere, quindi insomma lavoreremo su tutto quanto per cercare di arrivare al massimo. Allora, prima hai espresso un parere molto chiaro perché di solito i calciatori dicono sono a disposizione del mister e della verità, però tu hai detto che preferisci giocare la centrale. L'anno scorso ho visto che spesso ti andavi a posizionare nelle fasi di sviluppo di possesso nella metà campo avversaria, un po' modello, diciamo, un caso che conosciamo tutti, Stones, nel Manchester City. Ti piace questa interpretazione del ruolo e con Conte ne avete parlato? È un'interpretazione che mi piace molto, devo dire, sì. Sono movimenti che appunto avevamo avevamo coordinato con mister Juric, adesso bisognerà capire il mister cosa vuole, però sono movimenti che l'anno scorso facevo parecchie volte, quindi in base poi alle richieste del mister farò quello che mi chiederà, con la possibilità, come dicevo prima, di poter anche fare questi movimenti un po' a dar fastidio agli avversari, a rompere le linee avversarie, però poi tutto starà alla volontà del mister, ovviamente. Alessandro, ciao. Torino-Napoli 3-0. Cosa hai pensato dopo quella partita e se ti avessero detto andare dall'altra parte a fine campionato, cosa avresti detto a caldo in quei minuti, considerando che tra l'altro c'era anche Conte in tribuna quel giorno? Ma in quel momento pensavo a difendere, poi fortunatamente era arrivato il gol in quell'occasione lì, quindi ovviamente io in ogni partita, da sempre praticamente, cerco sempre di dare il massimo, cerco di impegnarmi il più possibile per aiutare, come dicevo prima, la squadra a raggiungere il risultato, a vincere, a giocare bene, eccetera, eccetera. In quel momento se mi avessero detto che sarei andato al Napoli, appunto avrei fatto quello che ho fatto, nel senso che ci avrei pensato, avrei cercato di cogliere, capirne le opportunità, le potenzialità e di capire tutto il quadro prima di compiere la scelta. Buonasera, buongiorno, benvenuto. Napoli l'anno scorso è la terza peggior difesa degli ultimi vent'anni, non solo per aspetti tecnici, anche perché probabilmente è mancato un calciatore con le caratteristiche da leader per guidarlo il reparto. Tu l'hai sempre fatto a Torino, ti chiedo se sei pronto a guidare la difesa del Napoli l'anno prossimo e dall'anno prossimo in tutto e per tutto e quanto è importante, secondo te, avere un giocatore di leadership che guidi il reparto, al di là degli aspetti tecnici. Grazie. No, io mi sento pronto, però, come dicevo prima, indipendentemente da questo, secondo me ognuno deve sentirsi un leader, ognuno deve voler aiutare il compagno, deve voler sacrificarsi per gli altri, ognuno deve sapere quello che deve fare, essere responsabile per sé e poi appunto dare una mano agli altri. Io per quello che potrò cercherò di trasmettere questa cosa qui, sempre però con parole positive, con aiuti, perché penso che la cosa più bella anche che possa succedere, per esempio a me, quando durante un'azione, durante una partita, appunto, come dicevo prima, ci possono essere dei momenti di difficoltà, è importante sapere che sia in campo sia fuori ci sono dei compagni, degli allenatori che comunque stanno dalla tua parte e ti aiutano, perché queste cose poi alla lunga ti fanno tirare fuori quel qualcosa in più e ti permettono poi di dare ancora di più durante le partite, oltre che permettono di avere un'unione di gruppo maggiore che porta poi a risultati maggiori. Alessandro, ciao, Giovanni Annunziata, Radio Punto Nuovo. Il tuo procuratore, praticamente nelle fasi finali della tua trattativa con il Napoli, aveva aperto all'Inter nei giorni conclusivi. Ti chiedo quanto è influito, quanto hai pensato questo tuo eventuale trasferimento all'Inter e quanto ha pesato poi Conte nella tua scelta finale? Grazie. Sì, vabbè, per quanto riguarda queste cose io lascio ovviamente fare a lui, ma come ho detto io sono stato subito contento di essere contattato dal Napoli, di essere contattato dal mister, di aver parlato con il direttore che è venuto un po' di volte a Milano per parlare con me e col mio procuratore, quindi ripeto, come ho detto prima, sono contento della scelta che ho fatto. Ciao Alessandro, Adriano Pastore, Napoli Magazine. Ciao, buongiorno. Tuo predecessore, Kim, ha lasciato un'impronta indelebile nel Napoli degli ultimi anni. Pensi di poter continuare sulla sua scia o hai anche altri obiettivi? Ti dico la verità, per quanto riguarda queste cose a me non piace fare paragoni perché lui è lui, io sono io, lui è stato un giocatore importante per il Napoli e spero di poterlo essere anch'io, però appunto io quello che cerco di fare è di aiutare la squadra per poter raggiungere i migliori risultati possibili, cercando di dare appunto un apporto sia dal punto di vista propriamente tecnico in campo che dal punto di vista, come si diceva prima, della leadership. Quindi questo insomma, spero di fare assolutamente bene e mi impegnerò al massimo per farlo. Ciao Francesco Malaro delle Club Italia, una curiosità, visto che ti hanno fatto tantissime domande, qual è l'attaccante che ha avuto più difficoltà quest'anno in Serie A e se Osimen come l'hai marcato, perché l'hai marcato alla grande? Allora, l'attaccante con cui ho avuto più difficoltà, sicuramente Victor è stato ostico perché conosciamo tutti la sua forza, la sua velocità, quindi sicuramente è stato molto difficile da marcare. Per il gioco che avevamo nel Torino, quindi molto uomo contro uomo, devo dire che contro Lukaku è stato molto difficile perché essendo lui grosso fisicamente, riuscendo a coprire palla bene ovviamente marcarlo non è mai facile quando giochi uomo contro uomo. Però appunto ci sono tanti attaccanti forti, poi alcuni magari sono sono in giornata no, altri invece ti tirano fuori i jolly, quindi è sempre difficile. La cosa che conta, la cosa che cambia secondo me ed è una cosa che noto che mi aiuta tanto in queste cose qui è quella di studiarli molto, cerco di osservare molto i loro movimenti ma più che i loro movimenti il modo in cui i compagni servono i palloni. Quindi appunto è difficile sicuramente con tutti però i nomi te li ho fatti. Bene, invito un attimo il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, a sedere sul palco e anche il direttore sportivo in prima, Giovanni Manna, per una foto da tutti quanti. Prego Alessandro. Poi Alessandro ti volevo chiedere, visto che tu hai detto scendendo da Rivisondoli che questo posto ti piaceva tantissimo, ecco me lo confermi? È un posto dove resti anche in vacanza? Assolutamente no, ci stiamo trovando strabene, quindi siamo contenti di essere qui, è un posto bellissimo, quindi complimenti. Va bene, grazie a tutti. Volevo dire, scusami Nicola, volevo dargli una sorta di benedizione perché tutti i campioni dei tuoi colleghi del Napoli che sono atterrati direttamente a Castel di Sangro hanno avuto tutta fortuna, anche dai meriti sconosciuti, quindi tu sai un po' più il vantaggio degli altri. E la prima conferenza stampa qui è stata quella di Kim, che era un difensore come lui. Bene, grazie a tutti, buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.